Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi per noi è sabato pomeriggio, già ora di pranzo. Allora ho fatto pizzette al forno con delle birbe. Poi subito siamo scesi, ci stiamo regando ad un centro, non centro, un villaggio di Natale bellissimo che insomma servono una mezz'oretta da casa mia. E niente, molto 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 bello. Qui siamo già arrivati, abbiamo parcheggiato e vi lascio tutti i video che ho fatto per voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti